Musica Giornate di previsite alla clinica veterinaria del CEPPO L'inizio è stato questa mattina alle ore 6 e si proseguirà fino alle 11 con appuntamenti ben scadenzati è stata la mattina anche della visita del sindaco che ha parlato della novità per il palio che si sta a percorrere, dei contatti che ha avuto con le dirigenze e nuove norme che potrebbero essere introdotte si proseguirà poi nel pomeriggio con altri cavalli che dovranno passare la visita della staff veterinario che segue il consueto percorso, prima la visita, il prelievo, poi il tondino quindi la flessione degli arti del cavallo per vedere le eventuali zoppie e poi per tutti quanti, anche per i cavalli che erano presenti negli anni scorsi, le lastre al piano superiore due giorni soltanto mentre si era previsto anche un'eventuale terza giornata ma il numero di cavalli è tale da fare anche un po' preoccupare perché non saranno tanti, saranno una quarantina, 48 per la precisione i cavalli che potranno andare alla scelta dei capitani e fra questi bisognerà vedere quali passano la previsita Andrea Koghe è una lauretta mia in ottima forma ma anche un Andrea Koghe in ottima forma? Soprattutto, soprattutto io Che cosa vuol dire questo? Vedete che sei molto ermetico E cosa vuol dire? Che sono in forma Aspettiamo Quante possibilità hai? Chi ti ha cercato? C'è chi? Quanti? Tutti, il problema è che mi cercano nel periodo sbagliato Fino a oggi è sempre stato così Voglio che mi cerchino il 29 Quindi questo è l'anno che questo palio deve arrivare? Assolutamente sì Drago può essere una possibilità concreta per te Andrea Come tutte le altre contrade Devo debuttare, sono vergine e ogni contrada va bene Preferiresti montare un cavallo tuo o un cavallo che viene da un'altra scuderia? Preferirei montare un cavallo che già sarebbe qualcosa Poi va bene tutto Non ho preclusioni di questo genere qui Nel palio un fantino si deve adattare al cavallo che gli tocca Soprattutto nella mia situazione non posso scegliere Quindi non è un problema quello Da che cosa dipende se monterai o no? Questa è una bella domanda Sempre domande difficili mi fai Da cosa dipende? Detta ai microfoni è un po' detta male Però dal culo Ci vuole culo Scritta proprio così Ora mi hai fatto la domanda difficile La devi scrivere così Jonathan Bartoletti Questa mattina già al ceppo con quali cavalli? Allora prima di ripetere i cavalli sono Core, Pathos e Rexi E poi dopo c'ho gli altri tre C'ho la cavallina nuova, tu e Galana C'ho Roccorò e Paster Quali potrà arrivare sul tuffo? C'è da aspettare il sponsor veterinario Tanto oggi parlare secondo me è tutto È un po' indecifrabile dai C'è da aspettare che passeranno le previsite E poi a quel punto capire un po' quali saranno i cavalli Quante scelte hai invece Jonathan? Io sono contento dai Ringrazio tutti perché ho diverse possibilità Poi tanto alla fine si vedrà il 29 Però sono contento dai Un paglio lo vivo bene Sono tranquillo, sono contento A quante contrade hai dato la tua lista di cavalli? A nessuna perché ancora non ce l'ho Perché oggi Da una lista oggi ancora senza se cavalli passano le previsite Quali andranno nella tratta direttamente? O sono parecchio sommaro io O sono troppo bravi gli altri E per quanto riguarda le strategie di Palio Pensi di rientrare in una strategia di un lotto in alto Di un lotto in basso Di avere più contrade aperte con cavalli buoni O con cavalli di seconda fascia? Io penso che tanto in qualsiasi lotto ci saranno sempre i cavalli meglio Quindi anche il lotto alto e il lotto in basso Secondo me cambierà l'esperienza dei cavalli Secondo me da un lotto a un altro Ci saranno cavalli più esperti e cavalli meno esperti Si parla della lupa ovviamente Si è parlato tutto l'inverno della giraffa Però qualcuno ti dà già fisso nella chiocciola Eh ma tanto Siena è fatta di chiacchiere È giusto che sia o sì Se levi le chiacchiere al palio Non ha più senso niente Quindi è giusto ci siano E va bene insomma Ma queste sono tre contrade credibili? A voglia di certo Sì sì Per fortuna Per fortuna Sì 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 Ma ci potrebbe essere una contrada magari a sorpresa Che non ce la facciamo e Eh a voglia ci potrebbe essere Sì ci potrebbe essere Vediamo Alessio Micheli Questa stagione era stata quasi messa in dubbio per gli infortuni Poi sembra si sia risolto davvero tutto Ma io il dubbio forse ce l'avevano per l'altri Da parte mia c'è mai stato Quindi è una cosa che non mi ha mai dato problemi Quindi quante possibilità ci puoi avere di montare? Facciamo un conto Ma questo un po' dipende un po' da come si muoveranno Insomma i big Insomma i fantini che scelgono Perché la forbice si può restringere o aprire Secondo i contradi che possono andare a coprire loro Magari se coprono contradi dove posso montare Anche io si restringe Se possono coprire contradi dove magari io non posso montare A me magari mi si apre il ventaglio Ormai sei un fantino esperto Non sei più un ragazzo che deve scegliere per secondo Quante contradi possono averti come prima scelta? Ma io come prima scelta loro potrebbero avermi dovute Magari so io come prima scelta E sinceramente non ce n'ho nemmeno una Parliamo dei cavalli Si va verso un lotto dove probabilmente ci saranno diversi cavalli nuovi Questo per quanto riguarda poi la scelta dei capitani per le monte Ti aiuta o ti crea qualche problema? No problemi non me ne crea Anche perché io in 11 palli ho montato 9 esordienti Quindi non è quello a regola Potrebbe essere più facile la cosa per me Anche rispetto a altri sono abituati magari a montare qualche cavallo più esperto Può essere anche più Come si dice Può facilitarmi nel caso Se c'è un cavallo mio E può essere esordiente Oppure insomma qualche cavallo E comunque uno Durante la provincia Già aveva individuato da prima E poi magari è dentro L'aveva ridetto Magari durante le chiacchiere Facciamo con le dirigenze Durante insomma la stagione E quindi potrebbe essere Qualche cosa in più Parliamo anche dei tuoi cavalli che ha presentato qua oggi alle previsite Sono Raktu e Rock on Ice Raktu insomma ha già fatto il palio l'anno scorso E quindi diciamo Può essere considerato un po' più esperto di Rock on Ice Che è due anni e fa la provincia Quest'anno penso possa essere pronto per debuttare Lui ha fatto le prove di notte a 4 anni Quindi c'è già stato in piazza Ora bisogna vedere a che livello di maturazione è Quando ci metterà i piedi Ma comunque credo non abbia nessun tipo di problema L'astre è tutto ok Le fanno a tutti i cavalli Ma insomma Io Quando esce non ti dicono niente Però penso tutto ok Ecco Ma sai va bisogna sempre aspettare Parliamo anche delle contrade Lo so che i nomi non le vuoi fare Però qui insomma al Ceppo si parlava Per esempio di Mighelli La chiocciola Ma anche la lupa Come possibilità? Ma può essere una possibilità Come tante altre Quindi Insomma Più c'è noi Nel senso E ben vengano Perché tanto a me Io Il mio obiettivo è essere a cavallo Nel migliore dei modi Quindi Chi dimostrerà la volontà Di voler montare Alessio Alessio non perderà nemmeno un minuto Non hai mai avuto paura Anche di giubbetti importanti? No No Assolutamente no L'assenza sia di Andrea Mari Che di Alberto Ricciari Cambia un po' le visioni Anche da parte dei capitani Questo sicuramente ti può portare Anche ad essere Diciamo Dentro poi Sì sicuramente La sfortuna Di due fantini Insomma uno per la squalifia Uno per l'infortunio Sicuramente Avvantaggia un po' Tutti gli altri Questa è una cosa Logica Normale Quindi dovremmo essere pronti A cogliere l'occasione Nel caso Nel caso Si presentasse Giovanni Azzeni Abbiamo parlato tante volte Durante questo inverno Adesso siamo arrivati Proprio alle porte Del momento in cui C'è la scelta La scelta da parte delle contrade Sul tuo nome E il tuo nome È il più richiesto Quanto ti senti diverso Dalle altre volte Dagli altri pali? No Vabbè Negli ultimi anni Sto passando sempre Un momento più o meno Come questo Dove c'ho sempre Tante strade aperte E tante persone Mi danno fiducia Sono sereno Sereno Consapevole Delle possibilità Che ho Forse Più responsabilità Però di altre volte Essendo l'unico Sì Questo sì L'unico Perché manca Un'altra punta Importante Però comunque Ci sono Anche Le altre Due Tre punte Che con questa situazione Si sono tenuti Tutti più liberi E ognuno Ha le sue carte In regola Per far bene Penso Ci sarà un problema Cavalli E questo Per voi Fantini Quanto può contare? Ma no Io nella mia situazione Non tantissimo Perché comunque Avendo tante strade aperte Riesci comunque Ad andare Su una situazione Che ti piace Farai la La tua decisione Sarà presa in base Al cavallo Ai rapporti Al fiuto Sì dai Penso un mix Di tutto quello Che mi hai detto Cerco di far Combacciare Tutto quanto Chiaro La prima cosa Deve essere quella Che Giovanni Ci va convinto Sul soggetto Che gli piace Perché se Per accontentare Uno o l'altro Ci vai poco convinto Penso poi Il risultato È diverso Cerco di riuscire A far combacciare Un po' tutto Poi un po' Il destino Ci deve dare una mano E far andare Il cavallo Il soggetto Tutto quanto Nella situazione giusta Dove aspetterai La chiamata Dei capitani A casa mia Come sempre Con la mia signora E il cittino Che ci fa girare Un po' le scatole Sindaco Bruno Valentini La classica visita La classica visita Al ceppo Ma quest'anno Di problematiche Ce ne sono tante Per questo palio Sì La visita Non è per me Ma per i cavalli Quindi È un piacere Stare qui Diciamo Insieme All'ambiente Del palio Che come ogni anno Si rianima In attesa La prima carriera Non direi Ci sono problematiche Particolarissime Ogni anno Ha le sue pene Le sue speranze Quest'anno Sappiamo Che ci sono state Alcune inchieste Che hanno L'ambito Forse anche Toccato Diciamo Nostro ambiente Vogliamo Tenere fuori Lontani Questi cattivi pensieri Siamo pronti a tutto Tra l'altro Quest'anno Non avremo Una presenza Indesiderata Che sono Gli appassionati Di animali Che l'anno scorso Ci fecero visita In conseguenza Del diritto Compensibilmente Riconosciuto Dal Diciamo Dal prefetto Dal questore Di manifestare La nostra città E Invece Nel 2016 Complice anche Un po' Di preoccupazione Sui rischi Internazionali Vietando Accogliendo Una mia richiesta Vietando Manifestazioni Sono diverse Da quella tradizione Del palio Nei quattro giorni Se a luglio Che a agosto Diciamo Ci goderemo La nostra festa A noi E ai tanti turisti Che verranno Per quanto riguarda Invece Il meccanismo Ormai oliato Di selezione Dei soggetti Che si presenteranno In piazza La mattina della tratta Mi dicono I membri Della nostra commissione Veterinaria Dello staff Palio del comune Che tutti Stanno svolgendo Regolarmente Ci sono Una Novantina di cavalli Che potrebbero Partecipare Alle prove di notte Non tutti Parteciperanno Perché Una buona parte È teoricamente Ammissibile Già alla tratta Perché hanno Corso il palio O perché hanno Fatto la tratta Qui c'è però Un'icognita Nel senso Si attivite Quali sono Le loro condizioni Sanitarie Che verranno Verificate In questi giorni Per cui Non dovrebbero Eserci problemi Sui numeri Quindi dovremmo Avere un numero Adeguato Di cavalli Nellentrone Tale da consentire Capitani Di scegliere Con Una Platea Di soggetti Sufficienti Per fare Le loro scelte Saranno liberi Di farlo Mi auguro Che siano I cavalli migliori Ma tutti quelli Che saranno Selezionati Saranno adatti Per correre in piazza Per morfologia E per comportamento Ci sono state Diverse Riunioni Con i capitani In questi ultimi giorni Come mai Questa Accelerazione Nei contatti Abbiamo cercato Di affinare Anche se Di inventare C'è poco I meccanismi Che portano Alla selezione finale Come sapete Abbiamo introdotto Anche Una Sanzione Per I proprietari Di cavalli Che portano I cavalli qua Che sono Ammessi Teoricamente Alla Tratta Passando Dalle prove Di notte E che poi Come è successo L'anno scorso Poi decidono Di non presentarsi Se Decidono Liberamente Di non presentarsi Lo dobbiamo sapere Prima Perché Vogliamo comunque Garantirci La possibilità Di avere Un numero Sufficienti Di cavalli Da portare Nel coltivo Che poter Stare La mattina Della tratta Spero Che questa Sanzione Come sapete Un paio Che poi Può essere Raddoppiato In caso Di Reiterazione Del reato Cioè Dell'infrazione Dovrebbe essere Nelle nostre Speranza Speranza È sufficiente Per disincentivare Comportamenti Che Fanno male Poi Al modo Con cui abbiamo Costruito Questo Meccanismo Così Controllato Rodato E Sperimentato Poi abbiamo Anche Esaminato Diciamo La possibilità Che i capitani Ghi chiedevano Di Poter Arrivare Alla tratta Far arrivare Alla tratta Anche i cavalli Che Avessero Partecipato Alla prova Di notte Dello stesso Palio Allora Non è un regola Scritta Quindi È qualcosa Che va visto Diciamo Di volta in volta Ma in generale Secondo il parere Autorevolissimo E di cui Per me È un Principe regolamentare Nonché di Esperienza fatta In questi anni Che appunto Del parere Di veterinari È opportuno Che L'avvicinamento Di cavalli Al palio Avvenga gradualmente Credo Ne siano Consapevoli Anche Molti proprietari Che infatti Mi raccontavano I veterinari Che Stavano di mattina Che Durante Le prove Del percorso Addestramento Sia a Mociana Che a Monticiano In alcuni casi Non hanno Intenzionalmente Vuto Sottoporre I propri cavalli D'accordo Con i fantini Che li montavano Ha Prove Molto impegnative Perché Loro stessi Sono consapevoli Che il percorso Deve essere Un percorso Graduale Correre In piazza del campo Non è per tutti Vale per i fantini Ma soprattutto Per i cavalli E quindi Bisogna Arrivarci per gradi E noi Stiamo cercando Di far arrivare Alla piazza Solo per i soggetti Che Certamente O comunque Ragionevolmente Siano Adatti Per Provare Questa Difficilissima Prova Che è quella Difficilissima Sfida Che è quella Di correre In una pista Particolare In condizioni Particolari Quindi Periferiamo Almeno per adesso Anche se non è una regola Generale Infatti Non è una regola Scritta Far sì Che L'esito positivo Delle prove di notte Sia determinante Non per il palio Mediano Ma per il palio Successivo Non dovrebbe Assicci problemi Con i numeri Abbiamo fatto Più volte Valutazioni Insieme ai veterinari E quindi Almeno non ci siano Sorprese Che però Non sono Preventivabili Avremo un lotto Adeguato Per numero E per qualità Dunque sono Una novantina Poi ce n'è Una ventina Teoricamente Potrebbero essere Ammissi alla tratta Sì Poi ci sono Quelli che hanno Fatto anche la tratta Sono una ventina Tutto Quindi 90 Sì Esatto Il numero è quello Esatto Sì 45-50 Io volevo Cambiare un po' Argomento Inizieranno gli incontri Con le contrade Rivali Visto appunto Il sindaco Accennava anche Alle inchieste Che sono in corso Farà delle raccomandazioni Particolari E poi Un accenno Agli ospiti Beckham verrà Visto che era stato Invitato Allora Beckham non verrà Ha risposto Ha ringraziato Ma Non so che Chi impegna Viva Magari forse Anche gli europei Di calcio Infatti noi Abbiamo Tra i nostri ospiti Abbiamo accettato L'invito Tra vecchio Che è il presidente La FIGC Ha detto Vengo In relazione All'evoluzione Della missione italiana Diciamo Onestamente Spero che non venga Perché vuol dire Che l'Italia è andata avanti E quindi ha avuto dei successi Per quanto riguarda Invece Gli incontri Con le contrade Noi li avremo domani Saranno incontri Con contrade Rivali Che corrono Ambe due Oppure no A questo incontro Parteciperanno Anche i deputati Noi abbiamo accolto Un invito Che è venuto Dal magistrato Di far partecipare I deputati Ai quali poi Noi Che rendevamo partecipi Poi del verbale Degli accordi Presi alla mia presenza Fra contrade In questo caso Assisteranno anche Così che Sarà anche più Dovrebbero essere Ancora più autorevoli Diciamo Gli impegni assunti Dalle contrade Diciamo Al mio cospetto Che prima Gli le riferivo E ora assisteranno Direttamente Mi pare che il crema Sia di grande responsabilità Da parte delle agenzie Di contrade Credo anche Di popoli Perché Le inchieste Ci hanno preoccupato Noi cerchiamo Di tenere la testa Altrove Perché vogliamo essere sereni E consideriamo Che queste Inchieste Non toccano Non turban Non alterano Lo spirito E l'evoluzione Della festa Però viviamo nel mondo Quindi sappiamo Quello che succede Non mi pare di notare Poi lo Lo verificherò Direttamente Nei prossimi giorni Che ci sia Una grande attenzione Da parte Delle dirigenze Rispetto allo svolgimento Di questo palio Fra l'altro Abbiamo individuato Un numero Di dirigenti Ufficiale Fra virgolette Di ogni contrada Anche rispetto Poi agli incidenti O problemi Potrebbero succedere E all'evoluzione Anche in termini Di sanzioni Quindi ogni contrada Sarà rappresentata Oltre che dal capitano E dai fiduciari Due per contrada Ripeto Due per contrada E poi dal barbaresco Quindi per lo staffaglio Anche dal priore Dal vicario generale E dagli altri vicari Potremmo arrivare A nove per ogni contrada Mi sono raccomandato Che Siano resi Noti Insomma I nove membri O gli otto nove membri Perché alcuni Hanno un vicario in meno Così che si sappia Chi sono i dirigenti E dovremmo Vedere Quel piccolo corteo Che si forma Proprio prima di ogni prova Nell'uscita dall'entrone Un numero limitato Di trenta persone Che sono dieci capitani Con i venti mangini I quali poi vengono Diciamo Ammessi Nel palco Sotto il palco Dei capitani Ci siamo dati Delle mini regole Per far sì Che tutto avvenga Nel modo Solenne Rituale E magnificamente bello Con cui noi vogliamo Presentarci alla nostra città E agli occhi del mondo Verranno messi Anche degli altoparlanti In piazza Aveva detto L'assessore Mazzini Si sta verificando Come farlo Ancora non è Ancora non sarà così Quindi Stiamo vedendo Come realizzarlo È un estremo Un'ulteriore Misura di sicurezza Che in grandi ambienti c'è Stiamo vedendo Come farlo È vero che c'è il microfono Del mossiere Però bisogna Pensare Che quando noi Sentiamo la voce Del mossiere La sentiamo In un ambiente Di grande Diciamo Di grande silenzio Lo scopo Eventuale Di quegli altoparlanti È quello invece Di farsi sentire Quando non c'è silenzio Ma c'è rumore Quindi è una Logica Anche tecnica diversa Ancora non No Sindaco Quale novità C'è anche l'arrivo Del mossiere Come sta andando L'addestramento Del mossiere Visto che sappiamo Che il sindaco Lo sta aiutando A capire il palio Allora Qui vale la prova Del budino Nel senso che Per sapere se è buono Bisogna assaggiarlo Le permesse sono tutte Quindi diciamo La cuoca ci ha messo Tutti gli ingredienti Che doveva La sua capacità No Tutti insieme Tutti insieme Lui ha avuto contatti Con il Giorgio Con tutto lo staff a palio Il consorcio ci ha dato Anche dei filmati In modo che lui possa Vedere non solo La mossa Ma tutta la fase Preparatoria So che sta studiando Si sta applicando Però va visto Ognuno di noi Va visto alla prova È un esame Quindi puoi studiare Una poi l'esame È un'altra Per tutti Anche per Ambrosione Ci saranno ora Le raccomandazioni Ai Fantini Allora Prima di tutto Mi rivolgerò alle contrade Va bene Quindi ai capitani Ai Fantini Ci arriverò la mattina Della signatura Il contatto con loro Sarà solo in quel momento E lo Diciamo Non ci sarò solo io Ma ci sarà anche il mossiere La cosa importante Sarà la gestione Dei tempi della mossa E di dare in corsa I comportamenti Noi avevamo Noi abbiamo adottato Una certa linea Con Ambrosione Ma ogni mossiere La interpreta Per conto suo A suo modo Anche se la linea Poi la concordiamo insieme È importante Che sia molto chiara Nel senso che Non ci devono essere Frenti in dimiti Equivoci Su ciò che È un richiamo Su come devono comportarsi Ognuno ha il suo stile C'era l'inconfondibile Adagio adagio Di Ambrosione Può darsi che lui Abbia Diciamo altri termini No Quindi vedremo Quale sarà Il suo modo Di esprimersi Una raccomandazione Che farò a Capitani Ve l'anticipo E che Non voglio vedere Quelle grida Dal pacco di Capitani Rivolte ai Fantini Sono contro il regolamento Quindi sarebbero anche Suscettivi di sanzioni E vedere Insomma Dei Richiami Ad alta voce Diciamo così Diciamo dal pacco di Capitani Nei confronti Del proprio Fantini O degli altrui Fantini Che magari hanno Dei comportamenti Non apprezzati Da Capitani A parte che non è bello Così Dobbiamo comunque Tutti tenere Un atteggiamento Consolo della festa Poi è che Contro il regolamento A Tiranida però E li va a 3.000 E' dura A tutti A tutti Va a 3.000 Ben trovati A tutti Gli ascoltatori Di Siena TV Siamo qua Dalla clinica Di Raffaello Ciampoli Al Ceppo Dove sono cominciati Da pochi minuti Le previsite Questo primo pomeriggio Di previsite Per il Palio Del 2 luglio Stiamo aspettando Ancora tutti i cavalli Che saranno presenti Questa sera Qui alla clinica Veterinare del Ceppo E poi vi aggiorneremo Con tutte le interviste Di protagonisti Capitani Fantini Fantini Che si presenteranno Nelle scuderie Nelle scuderie Con i fantini Ci siamo confermati Quello che ci siamo Detto all'inverno Una lunga giornata Di previsite Questa prima Qui al Ceppo Sono passati Diversi cavalli Qualche assente Tra poco ci sarà Quadrivia Un cavallo Che attira Tante attenzioni Su di sé Pensate che possa essere Un soggetto importante Per questo palio Sicuramente È un cavallo Che credo In qualsiasi tipo Di lotto Se dovesse andare La scelta Ci sta dentro Confermo Anche secondo me È un cavallo Interessante Da seguire Ci può star dentro Sia in un lotto Con cavalli Un po' più esperti Ma anche con un lotto Di cavalli Diciamo Un po' più giovani C'è un po' di preoccupazione Anche parlando Con gli altri capitani Per una possibile Mancanza di cavalli Dei cosiddetti Big Come la vedete voi In questo caso? Ma sai Quello bisogna Un po' vedere Il 29 mattina Quello che ci sarà Non lo so Se ci sarà Non o meno Sui cavalli Ci verranno messi A disposizione E faremo La nostra scelta Sì Giustamente Aspettiamo il 29 E poi vediamo Realmente Quello che ci viene Messo a disposizione Parlando invece Di Fantini Di Monte L'Aquila non nasconde L'interesse Per Giovanni Azzeni Ottimi rapporti Con Giuseppe Zedde Antonio Siri Insomma Una vasta scelta Per voi Sì Noi proseguiamo La strada Intrafresa Negli ultimi anni Quindi le nostre Fantine di riferimento Sono questi Aperti a tutti Ovviamente Perché 24 anni Non tralasciamo nulla Per quanto Invece riguarda La Giraffa Ottimi rapporti Con Enrico Bruschelli E un ottimo rapporto Con Jonathan Bartoletti Ma sì Enrico Bruschelli Diciamo La contrada Ha scelto Di farlo debuttare Nel 2014 Noi operiamo Sempre nel segno Della continuità Che se le strade Dovessero Incrociarsi Non vedo Non vedo Perché Enrico Sì Io credo Che pali facili Non esistono Sono tutti pali difficili Perché Non ci sono Contrade Che in partenza Rinunciano Non sono a vincere Quindi Troviamo tutte le volte Nove Contrade agguerrite Quindi Per me Cambia poco Su chi c'è Chi non c'è Sono tutte Sono tutte Anche la Giraffa Ovviamente Senza la rivale Con meno sete di vittoria Però ovviamente In piazza Per dire la sua Sì guarda La Giraffa È una contrada E tutte le volte Lì si presenta L'occasione di vittoria Non si è mai tirata indietro E anche a questo palio Se ci sarà l'occasione Di certo Ci faremo trovare pronti Un'ultima parola Sul Mossiere Siete stati nella commissione Che lo ha scelto Non ha approvato In provincia Come di consuetudine E anche questa volta Il comune ha deciso così Prima impressione Sulla persona Soprattutto L'impressione Non può essere Positiva Visto che poi Il nominativo Sul quale Siamo andati A confluire Tutte le nostre Opinioni Immediatamente E qui Può dire È stato Un amore A prima vista Ci ha convinto Da subito Sì sì Confermo Che l'ha detto Marco Proprio le prime impressioni Sono quelle Che ci hanno dato Quello stimolo Di scegliere Il signor Magni In quanto Vedere una persona Affascinata Sempre dal suo lavoro Ogni volta che parla Di cavalli Parla della sua storia Professionale Del suo lavoro Si illumina E gli parli Del paglio di Siena Giustamente È affascinato Curioso Ho accettato Di venire a Siena Con molta gioia E anche Con molta Diciamo Che ha accettato Questo incario In punta di piedi Che lui Ha bisogno Un attimo Di capire Ha bisogno Di provare E da parte nostra E anche Da parte dei Fantini Spero che ci sia Una collaborazione tale In modo Da poterlo mettere Nella miglior condizione Di riuscire In questo incario Siamo qui Davanti al locale Dove Stanno effettuando Le lastre A tutti i cavalli Che questa sera Si sono presentati Qua al Ceppo E abbiamo Un gradito ospite Jacopo Pacini Buonasera Buonasera Allora Ci abbiamo qua davanti Quadrivia Cavallina Di cui tutti parlano Prima abbiamo parlato Con il capitano Della giraffa Capitano dell'Aquila Dicono Può stare In un lotto Sia alto Che livellato Sei d'accordo? Sì È una cavalla Che comunque Appartiene A quella fascia Di categoria Che sta bene Da tutte le parti L'anno scorso Al primo palio Ha fatto una prestazione A parere mio Inaspettata Quest'anno Si sta riconfermando La cavalla Che è uscita Dal palio D'agosto Quindi Non posso dire Che è una cavalla Forte Ma non posso dire Nemmeno Che è una cavalla Di bassissima fascia Ecco È una cavalla Che giustamente Sta bene In tutti i lotti La vorrebbero montare Anche Tanti fantini E chi meglio di te Può dire Se hanno ragione Oppure no Io ti posso dare Il mio parere personale È una cavalla Che è molto divertente Da montare È una cavalla precisa Svelta in partenza L'ha dimostrato Durante tutto l'anno L'aveva già dimostrato L'anno scorso E quindi Non vedo perché Qualche fantino Un po' più ambito Non la potrebbe montare Logicamente La cavalla Come si è detto Ora appartiene Alla media fascia Non è un buon bolone Però nel senso È una cavalla Che secondo me Nelle giuste condizioni Può dire Veramente la sua Anche per te È stata una provincia Molto buona Un percorso di avvicinamento A questo palio Sicuramente positivo Quali sono le ambizioni Per questo luglio? Vabbè Le ambizioni Tanto ormai È anni che lo ripeto Per ora La mia ambizione È quella Di poter indossare Un giubbetto Almeno per una prova E poi da lì Magari partire E cercare di entrare Nel giro dei big Però insomma Intanto io Sarei contento Di fare una prova Rispetto agli anni scorsi C'è qualche contatto In più Si sta muovendo qualcosa Oppure no? Fortunatamente Anche grazie a Quadrivia Che quest'anno Comunque Mi ha dato luce Con due vittorie E dopo la prova Ce l'ha fatta bene Al Degnano Dopo il pagliotto Della settimana scorsa A Castiglione Fiorentina Logicamente qualcuno Si è accorto Che ci sono anche io Cioè non posso parlare Di contatti veri e propri Perché sarei Un presuntuoso E sarei un illuso Però comunque Cioè si sono accorti E mi fa piacere Comunque la gente Anche per dei banali Ringraziamenti Mi ha chiamato Ecco sono cose Che dopo anni e anni Di sacrifici Fanno veramente Tanto piacere Grazie a tutti